La mattina è rimasto in sospeso una citazione di Sant'Ignazio di Loyola. Ecco, allora, intanto Sant'Ignazio fa una considerazione che poi è classica nella spiritualità e nella vita spirituale tante volte si vince scappando. Sì, faccio l'esempio, no? Se uno ha la tendenza a bere, vince la tendenza e si scappa, è giusto? Cioè, quando vedi gli amici in piazza e dici andiamo a farci un bicchiere, se riesce a scappare vince. Non so se riesco a farvi capire. Quindi ci sono delle situazioni nella vita umana e spirituale che si affrontano scappando. Così anche tante paure si affidano a Dio. Non lo voglio sapere. Ecco, penso a cose più concrete e mi impegno in cose più. E poi li affido al Signore, tante paure e tante cose. Perché non si possono risolvere se li affronto. O perlomeno mi ingolfano. Ecco, questo è molto importante. Riuscire a scappare. D'altronde noi non lo diciamo anche nell'atto di dolore. Ecco, di fuggire le occasioni prossime del peccato. Ecco, se non abbiamo il coraggio di scappare, certe volte, cioè di fatto la fuga in certe situazioni è fondamentale. Quindi appuntatevelo. Perché è importante questo fatto di scappare ogni tanto dalle... Ecco. Quindi è già una cosa. Poi Sant'Ignazio dice... Se la paura cresce e si alimenta grazie all'immaginazione, è anzitutto necessario riconoscere e combattere le paure immaginarie che ci paralizzano. Ecco, impedendo di compiere ciò che sta a cuore. Affrontare la paura in modo adeguato solo facendo un'esperienza reale. Ecco, in questo mi viene in mente San Benedetto che diceva che lavorando materialmente una persona equilibrava la sua vita. Quindi la preghiera e il lavoro manuale aiutano molto. Ecco, perché una persona impegnata nel lavoro ha meno tempo di smarciarsi il cervello. Uno più tempo ha e più il cervello... Ecco. Se una persona ha molto tempo libero, il demonio impegna il cervello molto. Per cui è molto meglio fare delle cose, programmare la giornata e cercare di affrontare concretamente la vita, anziché smanciarsi il cervello su ipotesi e cose. Poi continua. Il nemico della natura umana cerca di paralizzare la nostra libertà, dice Sant'Ignazio di Loyola. E il desiderio proprio con la paura. Ecco. Ingigandendo... Il demonio ingigantisce i nostri rischi. Uno comincia a dire, ma se a me succede questo... Immaginate per esempio Mancese Mucà. E se succede un terremoto, che facciamo? Non è facile. 200 cristiani. Dico, se possiamo fare ipotesi così... Ecco, il demone ingigantisce i rischi di ogni cosa. Ingigantisce le difficoltà. Perché noi non scegliamo il bene. Per questo il demone insiste, perché la persona, se vuole liberarsi da questa forma di schiavitù, è obbligata a decidere confermezza e risolutezza nella direzione opposta ai suggerimenti del maligno. Quindi, riconoscere che quando ci mette davanti tanti ipotesi di rischio, di cose, ci vuole fare paura, noi dobbiamo fare il contrario, dice Sant'Ignazio. No, io lo faccio. Ecco, mi devo imporre. Quando io mi impongo, egli fa il forte con i deboli. Però il demonio, ricordatevi, dice Sant'Ignazio, diventa debole con le persone forti. Questo è un... In effetti è vero, anche delle persone con i più deboli diventano cattive. Più debole sono le persone, ci sono persone che più deboli sono gli altri, più si fanno aggressivi. Ma appena uno ci muscia l'ugna, come se dire, ci abbagano l'agli. Ecco, si calmano un poco, perché ci sono persone che sono così. Ecco, la giustizia sarebbe il contrario, che uno sia forte con i più forti e debole con i più forti, che si fa uno tutto a tutti. Però, vedete, la perversità umana porta a volte che se uno si fa troppo debole l'altro diventa più aggressivo. Ecco, per cui bisogna vedere le persone. Il demonio è così. Tante volte gli uomini assumono atteggiamenti diabolici. Infatti, parole testuali di Sant'Ignazio di Loyola è proprio dell'emonio indebolirsi e perdersi d'animo. E quindi allontanare le tentazioni quando chi si esercita nella vita spirituale si oppone con fermezza, agendo diametralmente in maniera opposta. Se invece chi si esercita incomincia a temere, comincia a perdersi d'animo nel sostenere le tentazioni, non c'è al mondo una bestia più feroce del demonio. Quindi diventa aggressivo di fronte a una persona impaurita. Quindi più una persona ha paure, più diventa terreno fragile di aggressioni, di tentazioni e di cose. Più una persona è risoluta, più una persona decide per Dio, si fa forte di Dio. Vi ricordate l'episodio forte di Bello dell'autobiografia di Santa Teresa, no? Che il demonio la faceva impaurire? A un certo punto lei trovò un crucifisso un giorno e gli andò incontro contro il crucifisso, col crucifisso, e lui cominciò a tramare e cominciò a indietreggiare. E nell'autobiografia scrisse lì ho capito che quando io sono di fronte al demonio ci vuole Gesù e lui diventa, si blocca lui. Quindi due sono le cose, o ci fa bloccare a noi o si blocca lui. O ci paralizza con tanti rischi, tante paure, poi succede questo, poi succede quello, poi succede... Sapete, tante volte il cervello diventa anche occasione di tentazione del maligno e ti dice, vedi, e se poi ti ammali? E se poi tu sei un fallito? E se poi non conchiude niente? Quante volte, per esempio, una delle tentazioni che ci mette nella testa qual è? E che conchiude? Che campo a fare? Che ci prega a fare? Tanto è inutile. Queste vengono dal maligno, no? Tanto, che cosa hai concluso nella tua vita? Quanto vuote? Perché non riconosci che sei un fallito? Perché riconosci che hai perso tempo? Ecco, ci vuole fare perdere la stima di noi. Guardate che Gesù invece ci valorizza. Vedete che Gesù dice, anche nei profeti, tu sei prezioso ai miei occhi. Io ti amo, ho dato la mia vita per te. Il demoneo invece ci dice, vedi, tu sei sempre un peccatore. Non riesci a fare, passi avanti. Poi a un certo punto ti piglieranno malattie, ti abbandoneranno tutto e resterai solo. Nella vecchiaia, che fai? Ora, sei inutile. Ecco, ci vuole svalutare il demonio, ma dobbiamo capire da dove vengono queste idee. Perché se noi invece pigliamo troppo per bene, se ci diamo spazio, lui diventa più aggressivo ancora. Se noi invece guardiamo a Gesù e diciamo, Signore, hai dato la vita per me. Ogni giorno mi invita all'Eucaristia, pensate. Ogni giorno il Signore ci dice, beati gli invitati alla cena del Signore. E si offre a noi, Signore, tu sei la mia forza. Anche se io non valessi niente, tu mi ami perché io accolgo il tuo amore. Ecco, Gesù diventa la nostra fortezza. Ma se noi diamo spazio a tutte queste idee che vengono dalla parte negativa e ci svalutano, noi poi collaboriamo e lui si incalza sempre di più. Ecco, quindi questa tentazione fa parte purtroppo di quelle paure, vi ricordate, la prima tentazione, dare più più credito al demonio che a Dio. Da una parte c'è Dio che mi dice ti voglio bene, ti amo. Da una parte c'è il demonio che ti dice tu fai schifo, non sei nessuno, ti abbandonano tutti, non sei degno di nessuno, anzi, ti dice non ti ira a fare, manca comunione oggi perché non si cosa. E tanta gente ubbidisce. è facile obbedire al demonio e non ci credono il Signore. Noi siamo di fronte a due che ci dicono due cose opposte. Ecco, Dio che ci dice ti voglio bene, ti amo, tu sei una parte del mio cuore, io ho dato la vita per te, anche oggi verrò nell'Eucaristia e ti darò la mia vita. Riposati sul mio petto, ci dice il Signore, perché tu sei per me importante. anche se ci fossi stato solo tu, io avrei dato la vita per te. Questo è il Vangelo del Signore. Dall'altra parte il Debono dice l'opposto. Quando noi diciamo intuiamo, sentiamo, percepiamo cose contrarie al Vangelo non possono venire da Gesù. Noi dobbiamo fare un discernimento, no? Non è che potremmo muccare tutte cose. Ecco, non possiamo noi bere tutto. Noi dobbiamo sfuggire alle cose negative e aderire alle cose positive che ci dice il Signore, perché la parola di Dio, vi dicevo stamattina, si presenta a noi come una roccia sicura. Il mio amore è sicuro. Figuratevi che anche nell'Antico Testamento si diceva l'amore di Dio è più sicuro del sole che sorge. Dice, domani mattina sorgerà il sole, è sicuro. L'amore di Dio è ancora più sicuro del sole che sorgerà domani mattina. Cioè è una sicurezza assoluta. Allora, vedete, noi dobbiamo fare un atto di fede sulla verità rivelata da Dio che ci nutre di bene. Perché se noi diamo conto al male, lui piglia sempre più campo fino a diventare padrone e noi diventiamo schiavi. Appena noi ci ribelliamo, lui comincia a vedere che non gli diamo credito a lui e comincia a fare storie. Ma fa bene che fa storie, non vi preoccupate, lui poi fa scruscio ma poi non può fare niente perché di fronte a Gesù non può fare niente. Quindi noi dobbiamo per vincere le paure avere il coraggio del Signore. Vi leggo un brano di Romani 8 per chiudere no chiuderlo completamente perché poi vi voglio dedicare oggi pomeriggio alle tristezze tanto per essere allegri ma no ma non vi preoccupate perché a causa delle tristezze uno raggiuna sulle cose quanto è bella la gioia state tranquilli non è un fatto no vi leggo Romani 8 18 38 20 versetti San Paolo sfugge le paure della vita concreta i guai guardate con una visione della vita superiore alla morte superiore a tutto per un bicchiere di chiesto ci vuole un ombrellone una sede chiesto su di bicchiere che si usano quando uno è sopra a spiaggia beh no però mi dissedo grazie anzi ci pensano sempre Enza ci pensa sempre Enza suo marito tutti allora sì Romani 8 18 38 ritengo fratelli che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi quindi pensate tutti i guai che abbiamo oggi San Paolo per vincere le paure li mette in collegamento con i beni futuri che sono questi guai in base alla gloria futura del paradiso l'ardente aspettativa della creazione infatti è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio quindi i figli di Dio dovranno rivelare nella loro vita la gloria del Signore qua anche sulla terra e poi nel cielo la creazione è stata sottoposta alla caducità non per sua volontà ma per volontà di colui che l'ha sottoposta nella speranza che anche essa la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio quindi già pensate una cosa San Paolo dice ricordiamoci che col battesimo noi siamo stati destinati alla gloria di Dio e quindi sulla terra noi siamo di passaggio ci dobbiamo abituare che dite perché se uno non considera che siamo di passaggio prende troppo sul serio le cose di questo mondo pensate che per una persona che vive solo per le cose di questo mondo anche una spina diventa un tormento ma per uno che si considera qua di passaggio dice va bene ma dico questa vita passa tutto sappiamo infatti che tutto insieme alla creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi non solo ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito Santo gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli la redenzione del nostro corpo nella speranza infatti siamo stati salvati ora ciò che si spera se è visto non è più oggetto di speranza infatti ciò che uno vede come potrebbe sperarlo ma se speriamo quello che non vediamo lo attendiamo con perseveranza ecco il Signore nella rivelazione ci ha detto ho scritto il vostro nome in cielo ecco io vi assicuro dice il Signore anche prima di morire lo disse non siate tristi perché io vi ho preparato un posto in cielo allo stesso modo anche lo Spirito viene aiuto alla nostra debolezza noi non sappiamo infatti neanche come pregare in modo conveniente ma lo Spirito stesso geme e soffre e lo stesso intercede con noi con gemiti inesprimibili e colui che esclude i cuori sa che cosa desidera lo Spirito perché egli intercede per i Santi secondo i disegni di Dio del resto noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio quindi anche le sofferenze per quelli che sono col Signore Dio le fa tendere al bene oggi stesso padre il Papa Francesco è andato da Pacepio ecco se voi pensate che Pacepio gli hanno impedito di celebrare la Messa pensate anzi non so ha fatto il Papa ha espresso il desiderio penso che l'avrà fatto oggi di mettere che Pacepio nella tomba avesse la sua stola dice mi sento più al sicuro e questo l'ha espresso nei giorni scorsi mi sento più al sicuro se andando da Pacepio gli affido la mia stola quella che è celebra e la metto sul suo corpo in modo che sono sicuro che mi aiuta ora se pensate che mezzo secolo fa Pacepio gli hanno impedito pure di celebrare la Messa e il demone ha fatto di tutto per distruggerlo il Signore trae sempre il bene dal male sempre è questione di tempo Dio vince sempre il male davanti a Dio non ha potere noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno poiché quelli che egli ha da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo perché egli sia il primogenito tra molti fratelli quelli poi che ha predestinato neanche i chiamati quelli che ha chiamato neanche giustificati cioè resi giusti quelli che ha resi giusti li ha anche glorificati quindi state tranquilli dice che il Signore già vi ha scelti e già vi chiama a partecipare con Lui all'amore eterno che diremo allora di queste cose se Dio è per noi ma chi può essere contro di noi egli che non ha risparmiato il suo figlio ma lo ha consegnato per tutti noi non ci donerà anche insieme a suo figlio ogni cosa come vuol dire se Dio Padre ci ha regalato suo figlio che è la cosa più preziosa che ha come non ci darà tutti gli aiuti necessari per il nostro bene chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto Dio è colui che giustifica ecco chi condannerà Cristo Gesù è morto anzi è risolto sta alla destra di Dio e intercede per noi cioè Lui è il nostro avvocato difensore chi ci separerà dall'amore di Cristo la tribolazione a proposito di paure l'angoscia la persecuzione la fame la nudità il pericolo la spada ma come sta scritto per causa tua Signore siamo messi a morte tutto il giorno siamo considerati pecore da macello ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati io sono infatti persuaso che nella morte e nella vita negli angeli nei principati nel presente e nell'avvenire nelle potenze nell'altezza e nelle profondità né alcuna altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo il nostro Signore ecco San Paolo fa un ragionamento semplicissimo Gesù ha vinto il male si è consegnato a noi nei sacramenti noi abbiamo Gesù che non solo ci difende ma ci dà il suo amore lui ha vinto tutto per cui rimanendo uniti a Cristo niente ci potrà strappare dal suo amore niente ogni cosa se noi rimaniamo uniti a Gesù ogni cosa si sottometterà vi ricordate lo stesso San Paolo in Filippesi 2 in un inno che è presente a lui dice perché davanti a Gesù ogni ginocchio si piega in cielo e in terra e sotto terra e ogni lingua proclama che Gesù è il Signore quindi la realtà del Gesù risorto che è concreta voi pensate che anche stasera noi ci ciberemo di Gesù vivo ecco coloro che veramente accolgono Gesù vivo quando ci prendiamo l'ostia noi non ci prendiamo una cosa noi riceviamo una persona dentro di noi Gesù vive in noi e se Gesù è con noi dice San Paolo chi potrà vincerci noi ci vantiamo di lui perché lui ha vinto il male e la nostra vittoria su ogni forma di paura è lui io mi vanto del Signore mi vanto che il Signore mi ama e mi dà se stesso nell'Eucaristia passiamo alla tristezza nei testi sapienziali a proposito della tristezza si dice di stare attenti che la tristezza diciamo è anche dal punto di vista umano perché loro parlano in modo anche siamo prima di Gesù Cristo per cui prima di Gesù Cristo non c'era la rivelazione e la realtà del Regno di Dio quindi tutto quello che c'è prima di Gesù Cristo in fondo è sempre una religione umana fu Gesù che ha aperto gli orizzonti del Regno dei Cieli prima di Gesù si pensava che la vita fosse questa e che dopo questa vita si andasse in una specie di stanzone di ombre non era una vera vita lo Sheol ecco per cui loro ora parlano dal punto di vista umano della tristezza sto citandovi proverbi 15-13 un cuore lieto dà serenità al volto ma quando il cuore è triste lo spirito si deprime è vero su proverbi su veri e propri proverbi ecco se tu hai sorridi il tuo volto ha una luce particolare se però sei triste quella tristezza ti porterà alla depressione ti deprimerà è la strada per deprimerti quindi bisogna stare attenti che quando una persona è triste non dia spazio alla tristezza faccia qualche altra cosa poi anche al capitolo 17 17-22 proverbi 17-22 un cuore lieto fa bene al corpo ma uno spirito depresso inaridisce le ossa cioè fino alle ossa uno si sente proprio distrutto libro del siracide libro del siracide il libro del siracide è un libro tipicamente ebraico proprio è ben sirac era proprio l'ebreo proprio possiamo dire classico sto leggendo siracide 30 capitolo 30 21-25 non darti in balia della tristezza non tormentarti con i tuoi pensieri vedete già loro capivano nonostante ancora non ci fosse Gesù che quando uno è tormentato dai pensieri è meglio non distrarsi la gioia del cuore è la vita dell'uomo l'allegria dell'uomo allunga la vita distraiti e console il tuo cuore tieniti lontana la profonda tristezza perché la tristezza ha rovinato molti e in esse non c'è alcun vantaggio gelosia e ira accorciano i giorni le preoccupazioni anticipano la vecchiaia un cuore limpido e sereno si accontenta dei cibi e gusta tutto quello che mangia questo è pure vero se uno sta bene quello che mangia se lo gode ma se uno sta male non si gode manco mangiare niente quindi sono molto pratici ve li cito perché è anche bello sapere come loro affrontavano questi problemi prima di Gesù poi capitolo sempre siracide capitolo 7 versetto 32 anche al povero tendi la mano perché sia perfetta la tua benedizione cioè quando vedi una persona triste ecco poi continua la tua generosità si estenda ad ogni vivente ma anche al morto non negare la tua pietà cioè pur quando muori cerca di essere pietoso verso il cadavere verso così ecco non evitare coloro che piangono e con gli afflitti mostrati afflitto non esitare a visitare un malato perché per questo sarai amato in tutte le tue opere ricordati della tua fine e non cadrai mai nel peccato ecco ricordati che come si diceva troisi ricordati che deve morire muove l'appunto dice allora capitolo 38 questo è un po' un monito verso guardate che cosa dice 38 23 Siracide si 38 23 nel riposo del morto lascia riposare anche il tuo ricordo consolati di lui ora che il suo spirito è partito come vuol dire dopo che ci fai il funerale per favore cerca di ripigliarti sono molto concreti molto pratici erano quasi prosaici queste cose queste cose era gente proprio molto diceva chianci chianci ma anche Davide fino a quando suo figlio così e poi a un certo punto dice basta non devo piangere più perché è inutile ormai che devo fare ecco quindi dice piangi fino a quando è giusto piangere dopo consolati cerca di vivere perché la vita vale più di tutto ed è vero pure davanti a Dio questa è quasi una premessa poi di quello che Gesù dirà della vittoria sul male è come se questi autori che ancora non conoscono la risurrezione poi a un certo punto la intuiscono come quando Giobbe mentre soffre dice ma io non posso credere che la sofferenza sia tutto nella mia vita io lo so che prima o poi la mia sofferenza si trasformerà in vita nuova cioè lo sentiva che non poteva la parola fine non poteva essere del male ecco anche Etti che non era manco cristiana si trovava ad Auschwitz e diceva ma io non posso credere che la vita così bella poi debba finire con queste cose negative per forza ci sarà qualche cosa di ulteriore come per dire il male non è l'ultima parola ecco questo ci fa capire che noi nel cuore siamo nati per la vita eterna e non ci rassegniamo al male per questo è molto importante per noi vedere il male come qualche cosa di passeggero come è vero ecco non è la definitività il male è qualche cosa che è un sentiero che porta dice Gesù poi alla gloria ecco il venerdì santo è un passaggio per la Pasqua quindi non dobbiamo dare molto peso ecco anche questi autori in maniera profetica anche se non conoscevano ancora la gloria di Dio però intuivano che il male ha un suo limite ed è un limite che c'è qualcosa di ulteriore di più grande addirittura nel Coelet giustamente in maniera molto concreta Coelet 3-4 c'è scritto nella vita c'è un tempo per piangere e un tempo per ridere quindi onestamente è come dire c'è l'inverno e c'è l'estate se per ora è il tempo di chianci chianciamo e poi ci sarà la primavera e ridiamo come per dire diamo un limite un ruolo al male e anche il male ha un ruolo ecco altrimenti io finisco col gonfiare il male e dargli più importanza e me lo coltivo come se fosse un assoluto una cosa definitiva invece la Bibbia ci dice no il male è reale ma è inferiore al bene il bene è sempre più importante buttati col bene perché alla fine il bene trionfa sempre ecco la risurrezione è il punto finale di tutto il cammino dell'uomo i profeti partecipano alla sofferenza del del popolo perché vedono il popolo infedele vedono il popolo infedele e quindi si affliggono perché il popolo si allontana da Dio come noi ci affliggiamo quando vediamo che in Italia c'è corruzione che ci sono scandali e uno si affligge per la gente e così Geremia soprattutto Osea Isaia ecco si soffrivano molto per questo popolo che non ne voleva sapere di dare spazio a Dio ma si si faceva i fatti suoi ognuno era egoista per i fatti suoi vi faccio solo una citazione sto leggendo Geremia 4 20-25 si annuncia un disastro dopo l'altro tutta la terra è devastata a un tratto sono distrutte le mie tende in un attimo i miei padiglioni fino a quando dovrò vedere segnali e udire il suono del corno stolto è il mio popolo non mi conosce dice il Signore loro parlano alla bocca del Signore no? oracolo del Signore stolto è il mio popolo non mi conosce sono figli insipienti senza intelligenza sono esperti nel fare il male ma non sanno compiere il bene guardai la terra ed ecco vuoto e deserto i cieli e non vera luce guardai i monti ed ecco tremavano e tutti i colli ondeggiavano guardai ed ecco non c'era nessuno e tutti gli uccelli dell'aria erano volati via guardai ed ecco il mio giardino era deserto ecco era la desolazione proprio dovuta al fatto che l'umanità quando si stacca da Dio a poco a poco a poco a poco non vince il male ecco di fatto non ci sono alternative nella Bibbia il male lo possiamo vincere se ci alleamo con Dio vi ricordate alleanza antica alleanza definitiva quella di Gesù vittoriosa sul male ma se l'uomo si allea con Dio allora in effetti vince il male ma se l'uomo rimane solo perché rifiuta l'alleanza con Dio la tristezza lo invade non ha possibilità ecco il male alla morte poi che è la parola definitiva solo Dio può dare una svolta dicevamo apre il regno dei cieli altre citazioni se volete poi segnarvele sono Geremia 13 17 18 Osea 7 13 Lamentazioni Libro delle Lamentazioni 1 2 già ho titolo Libro delle Lamentazioni figurate se volete rallegrare vi pigliate il Libro delle Lamentazioni e trovate tutti Lamentazioni ecco una sezione più più interessante per noi è un'altra la dinamica tristezza gioia ecco questo sì questo per esempio ve lo leggo perché è bello nella Bibbia si sottolinea che la tristezza di oggi Dio la vuole cambiare in gioia di domani sempre cioè oggi stai nelle lacrime alla notte piangi al mattino ti vuole dare la gioia è come per dire tu ora stai piangendo non temere fai lavorare il Signore e Lui domani mattino ti darà gioia ecco allora Salmo 126 allora Salmo 126 Salmo 126 5 chi semina nelle lacrime mieterà con gioia nell'andare se ne va piangendo portando la semente da gettare nel tornare viene con gioia portando i suoi covoni questo è molto importante questa dinamica ecco quando uno soffre deve dire non è davanti a Dio definitiva questa cosa il Signore vuole sempre farla evolvere sviluppare tutto il Salmo è piccolino il Salmo parla di questo fatto lo stupore prima oppure un altro passo importante Geremia 31 9 Geremia 31 9 erano partiti nel pianto ma io il Signore li porterò tra le consolazioni li ricondurrò ai fiumi d'acqua viva per una strada diritta in cui non inciamperanno perché io sono un padre per Israele Efraim è il mio primogenito poi versetto 13 la vergine allora gioirà danzando e insieme i giovani e i vecchi c'è pure il canto giovani e vecchi cambierò il loro lutto in gioia li consolerò e li renderò felici senza afflizioni bello questo ecco io so che tu stai soffrendo ma se tu mi collabori con me dice il Signore non fai di testa tua io a poco a poco cambierò il tuo lutto in gioia vedete questa fiducia bisogna averla a Dio ecco non bisogna entrare nella mentalità miracolistica perché tante volte il nostro egoismo vuole i miracoli come vuoi dire se l'affare fallo subito chi lo fa e invece il miracolo il miracolo non è mai la salvezza il miracolo è un segno di salvezza la vera salvezza è quando cambia la vita quindi il miracolo è solo un segnale ricordatevi quando il Signore mi dà un segnale per esempio mi dà io ripeto tante volte succede che una persona ha un malessere una cosa un problema e il Signore ti dà subito un segno ci dice Signore non lo posso più dopo un mezzo non lo avviccio ma è capitato anche a voi tante volte qualche cosa ecco ma quello è solo un segno non è che la vita poi i problemi rimangono nella vita è solo un segno che il Signore ti dà che in quel momento tu avevi bisogno di quel segno però al di là del segno poi è la vita che deve cambiare per questo dice cambierò il lutto in gioia tutta la vita un altro brano di questo tipo che è interessantissimo è Isaia 25 8 25 8 il Signore eliminerà la morte per sempre il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra poiché il Signore ha parlato ecco questo brano poi San Giovanni lo ha ripreso e completato nelle nell'Apocalisse ecco il brano di Apocalisse 21 4 quando parla della vita eterna nostra dice ecco dove andremo ad abitare sto leggendo dal Apocalisse capitolo 21 leggo dal versetto 1 così capite un po' il contesto io Giovanni vidi un cielo nuovo e una terra nuova il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi dove abitiamo noi per ora no? questo è il cielo vecchio e la terra normale poi passerà questa terra questo cielo e ci saranno cieli nuovi e terra nuova il mare non c'era più e vidi anche la città santa la nuova Gerusalemme scendere dal cielo da Dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo udì allora una voce potente che veniva dal trono di Dio e diceva ecco la tenda di Dio con gli uomini egli Dio abiterà con loro con gli uomini ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro asciugherà ogni lacrima dai loro occhi non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno perché le cose di prima sono passate e colui che sedeva sul trono di Dio disse ecco io faccio nuove tutte le cose e esso giunse scrivi perché queste parole sono certe e vere e mi disse ecco sono compiute io sono l'alfa e l'omega il principio e la fine a colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita chi sarà vincitore erediterà questi beni io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio ecco giustamente San Giovanni dice guarda che sono vere quelle cose che ci sto dicendo ecco io ve li propongo perché noi veramente possiamo appoggiare la nostra vita sulla parola di Dio che è sicura i nostri ragionamenti sapete sono sempre un po' fallaci non è che poi noi siamo un po' così debolucci ma la parola di Dio il cielo e la terra passeranno la parola di Dio non passerà quindi noi possiamo benissimo appoggiare la nostra vita la nostra mente su queste parole perché state tranquilli che il Signore li realizzerà per noi Gesù ha patito la sofferenza ma per una scelta sua perché è venuto proprio per gli uomini a condividere la nostra umanità questo concetto della condivisione vedete è importante Gesù non ci ha voluto salvare da lontano il Signore ha voluto farsi vero uomo come noi per condividere la nostra vita questo è fondamentale perché perché tante volte noi non ci riflettiamo su questo fatto che Dio ha voluto fare la vita semplice nostra voi pensate lui per gli altri ha fatto dei segni dei miracoli ma per se stesso no questo ci fa capire che la vera salvezza non sta nel miracolo il miracolo è proprio un segno lui si trovava a parlare del regno di Dio e allora dava in quell'occasione un segno della venuta del regno della venuta poi lui lo realizzava nella sua vita e lo realizza nella nostra vita vi do qualche passo della tristezza di Gesù a proposito della quaresima Marco 3 5 l'uomo dalla mano in anidita poi Gesù domandò è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male salvare la vita o ucciderla perché sapeva che tanti ascoltatori suoi stavano cercando di ucciderlo mentre Gesù voleva fare sempre giustamente del bene a tutti ma essi tacevano e guardandoli tutti intorno con indignazione rattristato Gesù si rattristò per la durezza dei loro cuori e disse a quell'uomo tendi la mano egli la tese e la sua mano fu guarita i farisei dopo che videro questa guarigione insieme agli erodiani tennero consiglio contro Gesù per farlo morire pensate dopo il suo segno invece di dire mamma mia e convertirsi erano talmente talmente acidi talmente duri Gesù si rattristò per la durezza dei loro cuori un altro passo molto bello è il pianto di Gesù su Gerusalemme siamo a Luca 19 chi di voi è andato in terra santa certamente vi avranno portato nella chiesetta fatta sul luogo dove Gesù ha pianto si vede tutta Gerusalemme sotto e tutta questa chiesetta con degli specchi c'è un vetro enorme e da dentro la chiesa fatta apposta tu vedi Gerusalemme ed è il punto storico proprio dove Gesù ha pianto per Gerusalemme siamo a Luca 19 41 quando fu vicino alla vista della città pianse su di essa dicendo se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circondieranno di trincee ti essiederanno e ti stringeranno da ogni parte distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno pietra su pietra perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata per questi brani in effetti San Francesco aveva un po' paura di perdere la visita di Dio certe volte noi sentiamo Gesù presente vicino e San Francesco quando sentiva Gesù vicino faceva di tutto per non perdere quell'occasione perché diceva non voglio perdere la visita di Dio o quando siamo in chiesa per esempio che Gesù viene vi ricordo che quando il sacerdote mette le mani sul calice realmente dal cielo viene Gesù con gli angeli e trasforma il pane e il vino ausovisita di Gesù in quel momento noi ci dobbiamo concentrare su di lui perché perché Gesù dice che Gerusalemme non ha riconosciuto quando Dio l'ha visitata e per questo motivo i nemici l'hanno sempre distrutta ed è rimasta così perché Dio viene e noi non l'accogliamo un altro passo molto bello è il pianto di Gesù voi direte ma Gesù pianceva sempre sì tanto potete pianceva ma non si vergognava di piangere Gesù anche se questo fatto in una società maschilista come quella in cui viveva Gesù il fatto di raccontare che Gesù tante volte si commuoveva non era vedete un vantaggio perché è come se fosse una debolezza ecco voi vi ricordate quando eravamo bambini che piangevamo e allora subito qualche grande ne diceva ma che sei una femminuccia che piangi con tutto vedete che bella stima delle donne no che sei una femminuccia che piangi tu devi essere un uomo non devi piangere mai ecco Gesù in effetti ha fatto la parcondicio con le donne e non si vergogna di piangere allora sto leggendo Giovanni 11 35 di fronte al sepolcro di Lazzaro che era morto da quattro giorni ecco Gesù scoppiò in pianto dissero a loro i giudei guarda come lo amava ma alcuni di loro dissero lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse vedete c'è sempre un racconto a Gesù sempre gli dicono queste cose quando era sulla croce ma perché non scinne perché vedete perché vedete noi abbiamo la mania di non affrontare i problemi Gesù è venuto proprio per affrontare la sofferenza vedete noi scapperemmo sempre eviteremmo sempre perché non poteva evitare che morisse ma non poteva evitare sapete tantissime volte il Signore non evita i guai perché noi ci realizziamo pienamente nei guai se vi pare strano segnate ci mettete un punto interrogativo poi lo capirete noi non possiamo illuderci che ci realizziamo solo nelle cose che ci gratificano no noi miglioriamo maturiamo ci purifichiamo affrontando le cose che non ci piacciono il vicino fastidioso a cugnata che è tinta un cucino che è così dice ma perché un Signore mi lascia ma perché non si ricoglie no scusate se parlo così vedete hanno visto che Gesù piangeva Gesù piangeva per la morte di Lazzaro dice ma perché non evitava che morisse ecco evitare ma Gesù non cade in queste cose perché se in quel momento la vita mi sta chiedendo una cosa io affrontandola raggiungo la maturità scusate quando siamo pronti per il cielo quando ubbire è maturo avvocare l'albero se fosse per noi noi non ci andremmo mai in paradiso fateci caso se fosse per noi mettete che il Signore ci dicesse guarda decidi tu quando avvenire in paradiso decidi tu quando avvenire in paradiso se fosse per noi se fanno 106 anni 170 e uno ci dice signore ancora no perché perché vedete noi siamo fatti così scusate se rido di questo ma se ieri abbiamo letto quel brano che quando il giorno prima di morire Gesù ha detto è giunta l'ora basta è giunta l'ora ecco chi la decide quest'ora vi ricordate ieri il brano voi non potete decidere di allungare la vita di un'ora Cristo è l'albero della vita vi ricordate due alberi l'albero della vita e l'albero del bene e del male l'albero della vita l'ha deciso lo signore basta ecco questo fatto vedete noi ci urta chi sta a tentazione di impossessarci dell'albero della vita no muoro quando di cui ma per chi da morire ecco il signore dice fidati di me vi ricordate quello che dice il libro della sapienza capitolo 3 quando una persona muore giovane è perché Dio che conosce il futuro sa che quella persona o si rovina o soffre troppo e supporta ora al sicuro pensate guardate l'intelligenza è terribile sapienza capitolo 3 quando Dio vede che una persona è matura per il cielo è nel futuro lui che vede il futuro quella persona avrà troppi guai o rischia di perdersi in una società corrotta preferisce portarselo al sicuro subito e poi la Bibbia dice in quel brano gli stolti guardano ma non capiscono sto fatto perché ragionano umanamente guardate noi abbiamo necessità di convertirci non pensate che noi la pratica religiosa è sufficiente noi abbiamo bisogno di entrare in quest'ottica di San Paolo poco fa l'ho letto il Signore mi ha promesso il paradiso per cui le pene di questo mondo rispetto al paradiso che su dice San Paolo sono poca cosa per cui li paragonali San Francesco di fronte a questi brani sapete che diceva tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto San Francesco d'Assisi che non era un fesso ora vedete alla scuola di questi maestri abbiamo da imparare allora un altro brano di Gesù Matteo 26 37 Matteo 26 37 a proposito di tristezza guardate presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo Pietro Giacomo e Giovanni a me mi viene sempre di dire Aldo Giacomo Giovanni Giacomo quindi si scegliene un nome preciso guardate che certe volte se non sto attento dico qualche po' durante la mese mi viene di dire Aldo Giacomo Aldo Giovanni Giacomo perché io penso che l'hanno scelta apposta questo fatto cominciò ecco presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo cominciò a provare tristezza e angoscia guardate e disse la mia anima è triste fino alla morte restate qui e vegliate con me andò un poco più avanti cadde a terra e pregava dicendo padre se è possibile passi da me questo calice però non come voglio io ma come vuoi tu è molto bello questo fatto Gesù è venuto a partecipare alla tristezza dell'umanità e l'ha santificata col suo amore e il padre ha realizzato proprio perché gli ha consentito proprio di partecipare alla nostra vita gli ha consentito di santificare anche la sofferenza infatti il brano che dà risposta a questo brano che ho letto si trova in ebrei lettera agli ebrei capitolo 5 allora versetto 7 guardate com'è bello nei giorni della sua vita terrena Gesù offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito con la resurrezione pur essendo figlio imparò l'obbedienza da gioca e patì e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono pensate ci sono elementi importantissimi Gesù come uomo diventò perfetto con le cose che patì le sofferenze per Gesù proprio perché le fece per amore nostro le sofferenze per Gesù dal punto di vista umano perché come Dio era già perfetto ecco è la persona divina che si fa uomo ma come uomo Gesù si perfezionò con le cose che patì ce lo vogliamo ricordare quando patiamo delle cose di dire signore se questo calice non può passare fallo diventare il mio perfezionamento la mia maturazione che posso diventare attraverso questa sofferenza una persona sana una persona positiva una persona matura una persona bella proprio dentro guardate che se non si utilizzano anche i momenti negativi noi non matureremo mai quando incontrate voi una persona che è infantile una persona che fa sempre storie una persona egoista potete stare sicuro quella persona può diventare matura solo se impara a soffrire guardate ormai abbiamo esperienze vi assicuro che è così tu vedi una persona egoista infantile immatura che si lamenta sempre che è così soltanto se impara a santificare la sofferenza della vita impara a trasformarla in un atto d'amore l'accetta per amore la porta avanti con sacrificio diventa una persona matura e questo è importante perché certe volte si può maturare solo soffrendo sulla propria pelle altrimenti guardate chi non sa soffrire sulla propria pelle fa soffrire gli altri tanta gente vedete fa soffrire all'aus invece Gesù per non far soffrire gli altri si è caricato lui la sofferenza voi pensateci nella vostra vita se voi vi caricate del peso degli altri così per amore senza lamentarvi gli altri si alleggerisce la vita perché uno si carica lì ma se una persona non ne vuole sapere senza volerlo le spalle degli altri diventano pesanti perché una persona si fa sopportare una persona così è importante imparare a soffrire ecco questo brano ricordatevelo ebrei 5-7 Gesù come uomo divenne perfetto con la sofferenza che patì è reso perfetto da quella sofferenza e dall'obbedienza poi fu capace di salvarci ecco se non se non fosse venuto a portare la nostra sofferenza Gesù come uomo non sarebbe mai maturato diventò un vero uomo perché imparò a soffrire si può dire imparò a soffrire per amore ad accettare la sofferenza per amore si può soffrire senza lamentarci per amore in senso positivo sì sì se leggete la vita a parte Pace Pio che è famosissimo ma la vita di Santa Rita la vita di tutti i santi sono persone che hanno avuto sofferenze grandi e le hanno metabolizzate le hanno trasformate in una strada di amore cioè invece di reagire male invece di deprimersi invece di abbattersi queste persone andavano avanti con i sacrifici per amore di Gesù dicendo signore se questo è utile io lo voglio soffrire per il bene ecco utilizzare anche i momenti negativi della nostra vita sono cinque minuti laio va bene c'è un altro capitolo molto bello un altro aspetto della tristezza guardate ve lo ve lo simbolizza due corinzi seconda lettera ai corinzi seconda lettera ai corinzi capitolo 7 capitolo 7 versetto 10 guardate com'è bello quello che dice San Paolo ecco e allora la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza mentre la tristezza secondo il mondo produce la morte quindi c'è una tristezza che diventa matrice di carità di amore come puoi dire diventa l'inverno che diventa primavera fruttuosa poi c'è una tristezza secondo la carne che invece ci distrugge quindi è molto importante fare in modo che la tristezza per esempio c'è una tristezza negativa in Matteo 19 22 Matteo 19 22 e allora a proposito di tristezza al versetto 21 il Signore dice al giovane ricco se vuoi essere perfetto vai vendi quello che hai da lui poveri avrai un tesoro in cielo poi vieni e seguimi udita questa parola il giovane se ne andò triste perché infatti possedeva molte ricchezze ecco quindi il fatto che era attaccato a tutti i suoi bene lui voleva servire a due padroni ecco era attaccato alla roba però dicevo Signore cerchiamo di fare tutte le cose però non è non si può fare un'altra tristezza positiva è stata quella di San Pietro siamo a Matteo 26 San Pietro puro gli ancivo meno male 26 75 ecco dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro è vero anche tu sei uno di loro infatti il tuo accento ti tradisce allora egli cominciò a imprecare a dire io non lo conosco quell'uomo bell'amico sì e subito un gallo cantò a questo punto Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto prima che aveva detto prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte è uscito fuori pianse amaramente ecco questo è un pianto buono perché da lì in poi si convertì ecco se non fosse passato buono buono il gallo canta per tutti basta non ti preoccupare basta basta ti ricciugoda a studiare fra felice eravamo noi col computer viene da qua ok va bene allora un'altra tristezza che vi vorrei in questi ultimi minuti solo due minuti un'altra tristezza importante è quella di Luca 24 17 Luca 24 17 allora ed ecco in quello stesso giorno quando Gesù è risorto due di loro erano in cammino verso un villaggio di nome Emmaus distante circa 11 chilometri da Gerusalemme e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto mentre conversavano e discutevano insieme Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo e gli disse loro che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino sentite si fermarono col volto triste ecco questa tristezza perché erano delusi di Gesù ecco non so se vi è mai capitato di rimanere delusi di Gesù ecco io vi auguro di rimanere delusi di Gesù perché quello è un passaggio che noi dobbiamo superare quando noi rimaniamo delusi di Gesù vuol dire che noi non avevamo conosciuto il vero Gesù perché il vero Gesù non ci può deludere noi abbiamo in testa un Gesù e gli vorremmo fare fare quello che piace a noi una specie di Gesù a portate di mano un Gesù preta portè un Gesù a nostro uso e consumo un Gesù che ci aiuta sempre invece vi ho detto che certe volte Gesù come ha sofferto lui ci chiede di soffrire pure a noi allora i discepoli di Emmaus rimasero tristi e infatti Gesù ora sentirete li rimprovera per questa tristezza si fermarono col volto triste uno di loro di nome Cleopa gli disse solo tu sei forestiere Gerusalemme non sai ciò che è accaduto in questi giorni domando loro che cosa gli risposero guardate l'idea falsa di Gesù che avevano ciò che riguarda Gesù il Nazareno come fu profeta potente in parole in opere davanti a Dio al popolo come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte lo hanno crucifisso attenzione noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti si sono regate al mattino alla tomba e non avendo trovato il corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli i quali affermano che egli è vivo disse loro sentite che rimproverò stolti e lenti di mente e di cuore quindi stolti significa scimonite va in siciliano è più facile ecco in lingua dici in lingua scorrevole cioè come vuol dire non capite siete proprio babbasonazzi stolti e lenti di cuore a credere in tutto in tutto ciò che hanno detto i profeti non bisognava che Cristo patisse quelle sofferenze per entrare nella gloria la stessa cosa di ebrei era necessario era necessario guardate che anche noi per noi è necessario passare per quella strada per vincere il male che c'è dentro di noi noi il male che c'è dentro di noi lo possiamo vincere quando nella sofferenza lasciamo operare lo spirito e diciamo signore io ho a porto sta cruce ma tu trasformale in risurrezione mentre io cammino nella sofferenza tu hai il potere di trasformare il male in bene ricordate fatemi il favore perché se è una persona evita sempre la strada della sofferenza non matura mai non si cresce non si cresce si resta sempre uguale ecco si può cambiare la nostra vita quando attraverso quella sofferenza vissuta per amore nell'umiltà insieme a Gesù in unione a Cristo uno dice signore tu mentre io soffro opera secondo la tua sapienza io collaboro così con te non ti posso dare altro noi non possiamo dare altro al signore a volte possiamo solo partecipare alla sofferenza di Gesù però in senso positivo partecipazione cioè per amore suo collaborando positivamente cercando di dare un senso alla sofferenza un senso di salvezza e così Gesù spiegò ecco allora allora quando furono allora non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui per questo quello che avevano in testa i discepoli di Emmaus non era il vero Gesù si erano creati un Messia a modo loro vedete che questo rischio lo abbiamo anche noi un Gesù a modo nostro anche noi sacerdoti tante volte che cosa abbiamo in testa è il vero Gesù che avevamo in testa da come ci comportiamo tanti sacerdoti non è giusto il Signore che abbiamo in testa e che cosa ci vuole un altro corso di teologia no state tranquilli non ci vuole un altro corso di teologia ne abbiamo studiato abbastanza ci vuole solo portare a cruce con Gesù nell'umiltà ecco se impariamo a portare pure la croce a gioire quando c'è da gioire ma come diceva il Coelte c'è un tempo per gioire e un tempo per soffrire si utilizza la sofferenza e si utilizza la gioia guardate che imparare a soffrire in silenzio positivamente senza deprimere dicendo Signore io soffro perché fa parte del mio cammino se questo calice non può passare sia fatta la tua volontà però io metto nelle tue mani la mia vita ecco io vi assicuro che la situazione è positiva ecco domani io ho un altro po' di passi biblici su sull'importanza di ecco di imparare a trasformare la tristezza in un atto d'amore quindi domani mattino poi completerò il discorso qui non Grazie a tutti